Come potete giudicare? Come potete condannare? Chi mi crede che noi siamo? Per i capelli che portiamo? Facciamosi perché crediamo in ogni cosa che facciamo. E se mi fermassi un po' a guardare con noi parlare, vi accorgereste certo che non abbiamo fatto male mai. Quando per strada noi passiamo, voi mi portate per guardare. Ci vuole poco a immaginare quello che state per pensare. Ridete pure se mi pare, ma non dovreste giudicare. E se questo modo di pensare a voi non va, cercate solo di capire che non facciamo male mai. Come potete giudicare? Come potete condannare? Chi mi crede che noi siamo? Per i capelli che portiamo? Facciamosi perché crediamo che nessun male si possa far. E se mi fermassi un po' a guardare con noi parlare, vi accorgereste certo che non abbiamo fatto male mai. E se mi fermassi un po' a guardare con noi parlare, vi accorgereste certo che non abbiamo fatto male mai.